Sono arrivati martedì e andranno via domenica. Parliamo delle ragazze e dei ragazzi del gruppo scout a Gesci di Castelvetrano che stanno svolgendo il campo estivo a Mistretta presso l'aria attrezzata del laghetto Quattroocchi nel cuore del parco De Nebrodi. Un'esperienza formativa e divertente nello stesso momento per questi giovani che stanno svolgendo varie attività non solo nel campo che hanno allestito e in cui vivono a contatto con la natura, cucinano, si divertono giocando insieme ma anche a Mistretta grazie al coinvolgimento di altre realtà come le associazioni La Valle delle Cascate, Stella De Nebrodi, Avis della parrocchia Santa Lucia e la collaborazione del comune Amastatino e degli scout locali. Per i ragazzi castelvetranesi un bel momento che stanno vivendo con grande entusiasmo. La prima volta che veniamo comunque è la prima volta che andiamo così lontano da casa perché noi siamo veniamo dalla provincia di Trapani. A me personalmente piace tanto fare i campi scout perché proprio mi piace fare nuove esperienze e questa siamo al terzo giorno e ce sono contenta. Mi sta piacendo tutto e spero di tornarci qualche altra volta. Il primo campo che faccio, cioè il primo servizio che faccio così lungo perché qui noi facciamo i campetti più piccoli. Il rosto è diviso appunto tra una parte che è la strada quindi camminiamo con gli zaini e una parte che è il servizio che ci fermiamo nelle strutture e aiutiamo le persone diciamo in difficoltà. Ho visto anche tipo la città che mi sa tipo più di rustica, cioè carina anche tipo le bottegine e così. Dopo anche qua a quanto capite è stata anche vandalizzata come zona, però comunque ci andrebbe forse a un progetto un po' di più ma è comunque una bella zona. Tanta soddisfazione anche per i capi scout che stanno accompagnando i vari gruppi in questo campo estivo che rappresenta un altro tassello per l'educazione ai valori e ai principi dello scoutismo. È un appuntamento annuale di verifica di tutto l'anno scout. Il campo estivo coincide con la fine delle loro attività e quindi si tirano un po' le somme e si cerca di capire se abbiamo ben seminato e se i ragazzi hanno recepito un po' le proposte e quanto si sono messi in gioco. Per noi l'importante è che loro si divertano giocando ma attraverso il gioco veicoliamo messaggi di un certo spessore per la loro crescita. Abbiamo scelto questo posto che ci hanno indicato, spettacolare, una bella vegetazione e i ragazzi stanno affrontando una serie di prove a una temperatura un po' più accettabile in una bella cornice naturalistica.